radio luna ben trovati che sono c'è la spapa di laccio e marco pece oggi ospite nostro tra poco in studio con noi il sindaco di fossalto saverio nonno ciao sindaco buon poveriggio ciao ciao hai un nome già da nonno sei pronto per essere chiamato nonno saverio direi che già siamo vecchi dalla nascita sindaco dal 2019 si insomma 4 barra 5 anni una bella esperienza se un sindaco di quelli diciamo prego si accomodi venga da trovarmi il comune pure andiamoci a fare una birra assolutamente la seconda allora con te parleremo sindaco di tutto un po quello che è successo a fossalto tra l'altro fossalto in provincia di campo basso non è lontanissimo da dal capoluogo quasi poco più di mille abitanti insomma facile sì forse facile non facile non è difficile il primo giorno di scuola quando sei salito da sindaco in comune com'è andata sempre emozionante lavorare per i tuoi cittadini è una cosa davvero emozionante poi cercare di fare del del meglio per loro è ancora di più riuscirci è il top sei un sindaco giovane si 37 anni quindi rientri proprio veramente tra i giovani così come dire e com'è il tuo rapporto con gli over 70 no mi trovo bene con tutti veramente fondamentalmente sei già un vecchio si sei già vecchio dentro si nonno come l'ora nonno come il cognome no a fatti scherzi insomma diciamo che fare il sindaco devi stare bene per tutte le generazioni dai più piccoli ai meno piccoli quindi ai dagli anziani ai bambini bambini della scuola e a che fare con tutte le fasce della popolazione quindi devi e per ognuno devi trovare la ricetta giusta e tutti pensi di esserci riuscito questo lo diranno i cittadini alle prossime elezioni però diciamo che non ci siamo comportati male ecco io ho avuto il piacere di venire a trovarti nell'ambito della promozione il mio primo libro un'accoglienza bellissima e in quella piazzettina simpatica dove c'è la panchina gigante esattamente questa è una scelta che ha fatto la prologo eugenio cirese per promuovere il turismo nelle nostre aree infatti è diventata un punto di attrazione anche da google beh perché ce ne sono poche immolite di questo diciamo che la prologo è stata l'associazione che ha lanciato un po la panchina gigante anche altri comuni poi hanno ripetuto questa iniziativa bene sindaco diciamo da un punto di vista sportivo e fossato come si pone si da un punto di vista sportivo è stato un comune sempre molto forte perché abbiamo avuto la società sportiva dal 1995 che aveva un po raccolto tutti quanti tutte le squadre avevamo la squadra dei piccoli amici esordienti e tutte le categorie fino alla prima categoria addirittura la squadra femminile e il calcio a cinque poi man mano purtroppo un po per via dello spopolamento un po per via anche della vicendarsi di altri sport i quali i bambini sono danno hanno dato altra attenzione siamo rimasti un po più rimaneggiati però comunque la società funziona ancora abbiamo una squadra che sta in seconda categoria e insomma da soddisfazione da soddisfazione da spopolamento purtroppo è un problema che attanaglia tutta la regione quindi direi che non è soltanto fossalto si purtroppo un problema che attanaglia un po tutta la regione un po tutta la nazione un po tutto il continente europeo diciamo che noi ci stiamo provando un po a mantenere tutti i servizi abbiamo istituito l'asilo nido comunale quindi cerchiamo di dare sempre più servizi alle persone per farle rimanere a fossalto a trarne dei nuovi e devo dire che con l'asilo nido siamo stati veramente è stato un bel progetto che ci ha portato per la prima volta dopo diversi anni a tornare con due sezioni alla scuola dell'infanzia diciamo mantenere poi tutte le sezioni alla scuola non è molto semplice in questi ultimi periodi però ci siamo riusciti ci stiamo riuscendo però purtroppo è un fenomeno difficile da combattere molto difficile direi impossibile sindaco quando esci per il paese ti guardi intorno qual è la soddisfazione più grande che hai nel guardare qualcosa che hai fatto sono diverse le cose che siamo riusciti a realizzare abbiamo portato avanti diciamo in questi quattro anni il quinto che sta per finire tre o quattro cose belle veramente da ricordare il parco giochi la comunità alloggio per anziani l'asilo nido di cui abbiamo parlato anche prima e un'altra ancora più bella è la comunità energetica ecco è parlato della comunità anziani direi che un argomento sempre sensibile no l'attenzione ai più deboli o insomma chi non può più badare a se stesso in modo autonomo ecco a fortuna quanti ospiti il primo ottobre abbiamo inaugurato la comunità alloggio dottor giuseppe mastrangelo abbiamo intitolato un dottore che purtroppo non c'è più e 15 ospiti con la possibilità di fare anche il diurno per le persone che magari vogliono solo lì andare a passare una mezza giornata e altre persone che stanno lì stabilmente perché purtroppo a casa non sono più autosufficienti quindi è stata una bella scommessa e ci siamo riusciti beh insomma questa è una bella cosa si vai a trovarli ogni tanto certamente vedono un giovane il sindaco ma dai sindaco invece qual è la richiesta più assurda che è stata fatta al sindaco proprio come figura se l'anno prossimo tornano le rondinelle poverate a povere non devono tornare a primavera le rondinelle no no senti invece da un punto di vista appunto del rapporto con i giovani buono ottimo sì sì siete giovani invece da un punto di vista degli animali non lo so ci sono cani randaggi sì questo fenomeno del randaggismo purtroppo sì da un po dappertutto abbiamo poi il canile convenzionato quando ci sono dei cani randaggi li facciamo accalappiare veramente abbiamo fatto anche degli avvisi per chi vuole prendere dei cani accalappiati dal canile noi ci donate si doniamo diamo anche un diciamo una tantum di 250 euro a chi adotta un cane del canile preso bella una bella cosa quindi attenzione animalisti o gente insomma tranquilla che vuole un animale un animale da avere in casa di compagnia insomma quello che vuole non comprate lì andate a Fossalto il sindaco vi dà 250 euro per chi adotta un cane del canile di Fossalto del canile convenzionato e quindi non comprate adottate andate a Fossalto dal sindaco Saverio Nonno e per adottare un cane vi danno anche un contributo per avviare un po' questa nuova compagnia di 250 euro